Ok, buongiorno, io sono Andrea Ciappetti, direttore tecnico di Innovation Engineering e volevamo presentarvi l'applicazione mobile per la posizione innovativa delle risorse delle bellezze del parco attraverso gli smartphone e attraverso un'applicazione installabile sia su smartphone Android che su telefoni iPhone. L'applicazione è stata pensata per consentire al cittadino di influire in maniera tecnologica delle risorse del parco non solo accedere ai luoghi di interesse naturalistico e paesaggistico ma anche accedere in maniera digitale ai percorsi escursionistici che possono essere fatti a piedi o in bicicletta e a tutte le altre risorse del parco in immobilità.